I finanzieri della compagnia di Iesi hanno proceduto all'esecuzione di numerose perquisizioni e sequestri nelle province di Ancona, Fermo, Macerata, Udine e Cosenza, nei confronti di soggetti italiani e stranieri coinvolti in un'ingente frode all'IVA sull'acquisto di 30 milioni di euro di prodotti elettronici e nel riciclaggio dei proventi illeciti. L'operazione, denominata Black Wall, ha permesso di scoprire in oltre 12 mesi di attività investigativa un giro di acquisti che consentiva a noti commercianti della provincia d'Orica di evadere l'IVA per oltre 7 milioni di euro su migliaia di smartphone di ultima generazione, computer, tablet e altri beni elettronici. Gli accertamenti hanno permesso di individuare tre società cartiere domiciliate fittiziamente a Roma che venivano utilizzate per acquistare i prodotti da fornitori situati in diverse regioni del nord e del centro Italia. Poi venivano rivenduti su internet mediante il sistema del dropshipping, cioè il venditore cede un prodotto ad un utente finale senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Otto persone, di cui 5 tra i 39 e i 73 anni, considerati gli ideatori della frode e tra ungheresi che venivano utilizzati come prestanome, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ancona. Rischiano la reclusione fino a 12 anni. Inoltre è stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo di beni immobili e mobili per 4 milioni di euro, tra cui un esercizio commerciale, un attante di oltre 8 metri di lunghezza, auto e saldi dei conti correnti bancari.